Benvenuti alla video chat musicale, buon pomeriggio a tutti. Chi vi trasmette DJ Michi, grande personaggio per tutti, faremo un'altra breve diretta di circa 15 minuti, 20 minuti, cantiamo un po' delle canzoni e facciamo ascoltare un po' di canzoni. Adesso andiamo a cantare per tutti voi, almeno ci provo, una canzone napoletana, una canzone del successo di Rino D'Angelo, Guai di ungella. Grazie a tutti. 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 abbiamo ascoltato di Milo D'Angelo cantato da me adesso andiamo a cantare in un'altra canzone al Milo Ciprova per tutti quanti voi adesso andiamo a cantare ti piace un gelatino piccolina così tu imbazzire tu sei sulla spiaggia stasera voglio amarti di più con il caldo che fa stare in casa è follia a rendermi in via tu stare in gelato più fresco che c'è ti piace ti piace ti piace un gelatino al gusto di panna come nel cioccolino ti piace ti piace ti piace il gelatino poi la fragolina la devi dare a me ti piace ti piace ti piace il gelatino il crema il secchio e il colcolino ti piace ti piace ti piace il gelatino e poi la fragolina la devi dare a me e poi la fragolina la devi dare a me il gelatino il gelatino Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 100% grano italiano. Grazie a tutti. 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 Buon pomeriggio a tutti. Sono le ore 16 e 45, siamo vicini a Natale, ascoltiamo sempre di Gigione, muovendo Natale, non dè ancora no. L'EF a doppia di L'EF. Grazie a tutti. Buon pomeriggio 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 a tutti. abbiamo ascoltato adesso per tutti quanti in ascolto in particolare per il mio grande amore moreno ascoltiamo l'ubrimo amore non 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 All'здurre Grazie. 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 Stiamo concludendo la prima parte della video diretta chat musicale. Mia mamma sta sempre nei piedi. Questa è mia mamma, vedete? Ogni volta sembra disturbare, non potrei fare mai la chat musicale. Voi tutte le persone avete visto che io non vivo la tranquillità. Quindi questa è la vita. Bisogna spararsi. Buonasera a tutti. Grazie.